Speriamo bene Speriamo bene Speriamo bene Speriamo bene Speriamo bene Speriamo bene Oggi, sabato 17 settembre Sono le 10 meno un quarto del mattino Io circa una mezz'ora fa ho sentito Luca Mi dice Dani, noi dal 29 di settembre fino al 10 di ottobre andiamo a Lanzarotta a fare surf Vuoi venire? Sì, vado E dato che un po' che non faccio surf la voglia è tantissimo Per cui Abbiamo prenotato Tocca, secondo l'altro Ma... incredibile Eccoci arrivati a Lanzar Mattia presto Camminata sulla spiaggia Lascio fare Peschi cazzituone Allora oggi a a Famara c'era c'era troppo vento poche onde Allora andiamo a Fuerte Andiamo a fare i turisti Ora siamo qua in coda al traghetto e andiamo a Fuerte Dopo una breve avventura qui a Fuerte dove siamo rimasti impantanati e adesso è il momento di tornare a Lanzarotta Allora andiamo a Fuerte Allora andiamo a Fuerte Allora andiamo a Fuerte e Odio amore questo sport Bisogna provare perché comunque se tu prendi la bici è bellissimo però la sensazione che ti dà un'onda è diversa secondo me è diversa è diversa è una cosa più è più intima hai più contatto con quello che stai facendo qua sei immerso nell'elemento quindi forse qua potente proprio sei tu e basta